costruire la nostra fattoria partendo dagli scarti seconda parte per questo e altri contenuti iscrivetevi al canale un altro elemento molto importante che possiamo trovare in pratica gratis sono gli scarti dalle macellerie questi ci permetteranno di fornire tutte le proteine e un pasto perfetto per tutti i nostri carnivori o onnivori andando negli orto frutta vi renderete conto di tutto il cibo perfetto che possiamo mangiare anche noi che loro buttano solo per delle piccolissime imperfezioni e quindi cosa fare lo prendiamo e iniziamo a nutrire le nostre galline intanto che costruiamo il nostro orto dulcis in punto bisogna iniziare a prendere l'abitudine ad andare a fare spesa tra virgolette all'ecopunto non ci rendiamo conto raga di quanto spreco o di quante cose perfette le persone buttano via da mobili sedie tavoli a qualsiasi altra cosa può aiutarci nella nostra fattoria e sono perfetti ed ecco come